Siamo con Alessia Cespuglio alla fine di questo Stessa Fasa, Stessa Rasa. Alessia, stessa faccia, stessa razza sostanzialmente. Vabbè, citazione da Mediterraneo, Greci e Italiani, stessa faccia, stessa razza. Quindi, comunque, anche se lanciato soltanto nel titolo, volevo lanciare un filo rosso nella resistenza italiana, nella resistenza greca. Il laboratorio è un laboratorio che va avanti al 25 giugno, quindi abbiamo fatto quattro incontri e questa è la performance molto breve che abbiamo montato. Quindi, solamente in quattro incontri, il laboratorio di tattro performativo, quindi tutto quello che avete visto è stato fatto in pochissimo tempo apposta, proprio per misurarci con delle cose piccole e che abbiano un effetto. La cosa che abbiamo scelto è stato Alekos Panagoulis, quindi il poeta e l'eroe della resistenza greca, al momento appunto della presa del potere da parte della dittatura dei colonnelli, con alcune cose che leggevo io al microfono, eccetera. Quindi, un insieme di suggestioni. Sì, c'era un schiavo in tempo, che in vita riteneva la speranza della libertà. Anni e anni sono passati e adesso quelli schiavi non esistono. Sì, sì, sì! Disperazione, promessa sono solamente, promessa di lotta. Grazie. Grazie.